Ciao, in questo video proseguiamo gli esperimenti mostrati la scorsa settimana. Dopo aver installato il sottosistema Windows per Linux e la distribuzione Ubuntu, aggiungiamo il server web Apache con il supporto del linguaggio PHP. Ho provato a fare qualche altro esperimento e qualche piccola indagine. Ho visto che sulla macchina dove il sottosistema Windows per Linux funziona perfettamente, riesco a vedere la versione di WSL inserendo dalla finestra del prompt dei comandi DOS WSL-V, ottenendo alcune informazioni sui componenti del sottosistema Windows per Linux. Se questo comando restituisce invece una lunga descrizione di come usare lo stesso comando, probabilmente è stata installata una versione problematica. Sto provando a cercare come diagnosticare e risolvere meglio questa cosa, ma non ho molte speranze. Quindi, se quello che ho fatto nel video della scorsa settimana funziona, si può procedere e rendere meglio utilizzabile il sistema. Prima di divertirci con Apache e PHP, attiviamo il sottosistema Windows per Linux installato la settimana scorsa e vediamo come accedere al file system Linux da Windows. Apriamo una finestra di Explorer sul server WSL.localhost. Attenzione! Non sto parlando di Internet Explorer, ma di Explorer Risorse, che si può anche chiamare dal prompt dei comandi digitando explorer-spazio-vsl.localhost. Ci vengono mostrate le aree condivise corrispondenti alle distribuzioni Linux installate con il sottosistema Windows per Linux, nel nostro caso solo Ubuntu. Da qui si può facilmente selezionare una cartella che ci interessa e farne un collegamento sul desktop premendo il tasto destro del mouse e cliccando su Crea collegamento. Creando il collegamento direttamente sulla cartella Ubuntu possiamo accedere all'intero sistema Linux. Ovviamente possiamo accedere con i privilegi dell'utente limitato che abbiamo creato, ma ne parleremo anche tra poco. Si possono fare più collegamenti in modo che dal sistema Windows si possa accedere a varie cartelle Linux, ma si può fare anche la cosa inversa. Ad esempio, si può collegare la cartella desktop dell'ambiente Windows alla home dell'utente Linux con il classico comando ln per fare i collegamenti simbolici e poter anche da Linux accedere velocemente ai dati salvati nell'ambiente Windows. All'interno del sottosistema Windows per Linux è possibile accedere a risorse Windows anche in rete usando il file system DRVFS, specificando server e condivisione esattamente come lo si farebbe in Windows. In questa modalità, il kernel Linux si appoggia al sistema Windows per accedere al server remoto. Il percorso con le barre rovesce va protetto all'interno di apici singoli in quanto per la bash rappresenta il carattere di escape. Si può anche installare il pacchetto chiefs-utils e fare la stessa cosa usando il protocollo chiefs. In questo caso, il kernel Linux si collega direttamente al file server di rete scavalcando la macchina Windows. Passiamo adesso alla parte del web server. L'installazione è semplice e basta anche solo installare il pacchetto libapaci2.mod.php Gli altri componenti indispensabili tra cui lo stesso server web apaci vengono aggiunti in automatico da apt. Alcuni componenti particolari di PHP, ad esempio il supporto per gestire immagini grafiche, collegarsi a database, a server di posta o altre funzionalità, si trovano in altri pacchetti da installare in modo esplicito, ma per i nostri test di oggi questo comando è sufficiente. In un sistema Linux Ubuntu normale, a questo punto il server web è attivo e basta collegarsi l'IP della macchina con un browser per accedere al sito web. Al momento in cui sto registrando questo video, però, sembra che il server non venga avviato. Occorre farlo a mano e occorre farlo a mano tutte le volte che il computer viene riavviato. Il comando è semplicemente sudo service apaci2 start. Adesso basta collegarsi con un browser web all'indirizzo IP in cui apaci è in ascolto. Per conoscere questo indirizzo IP, dal terminale Linux occorre dare il comando ip address o anche solo ipa e cercare l'indirizzo IP associato all'interfaccia eth0. Nel nostro caso, l'indirizzo IP è 172.25.120.225. Probabilmente è più facile trovare questo indirizzo col comando ip route o anche solo ip r. Non è il metodo più corretto, ma sicuramente è quello più pratico. Durante le prove per la preparazione di questo video, ho trovato una cosa poco simpatica. Questo indirizzo IP è diverso ogni volta che il computer viene riavviato, ma ne parleremo alla fine di questo video. Apriamo il browser web e scriviamo questo IP nella casella dell'indirizzo web. Comparirà la pagina preparata da Ubuntu e questa è la prima conferma che il sistema sta funzionando. Per verificare il funzionamento del PHP occorre preparare un piccolo script di test. Questo script lo prepariamo col blocco note di Windows. Con la finestra di Esplora Risorse apriamo la cartella var www di Ubuntu e creiamo un collegamento nel desktop di Windows verso la cartella HTML. Questa cartella è la radice del sito web configurata di base in Apache e potremmo trovare comodo raggiungerla velocemente con Esplora Risorse. Dal terminale Linux cambiamo il proprietario di questa cartella in modo da poter anche modificarne il contenuto da Windows con il comando sudo chon-r il nome dell'utente Linux e il percorso var www.html. Da adesso in poi possiamo creare pagine web e script PHP direttamente da Windows ma c'è un problema con Esplora Risorse. Windows è nato con un forte limite di progetto ovvero nasconde il nome completo dei file. Negli anni questa cosa ha aiutato molto i creatori di virus e malware e purtroppo Microsoft non l'ha voluta cambiare. Si può risolvere facilmente andando nel menu Visualizza poi Opzioni e selezioniamo Modifica opzioni cartelle ricerca. Nella finestra selezioniamo la scheda Visualizzazione e nelle Impostazioni avanzate togliamo la spunta su Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti. Selezioniamo Applica e OK e adesso possiamo avere il controllo completo sul nome dei file. Creiamo un nuovo file di testo e cambiamo l'intero nome con info.php Windows ci dice che cambiando l'estensione il file potrebbe diventare inutilizzabile. Purtroppo anche questa volta Windows si sbaglia e proseguiamo scegliendo Sì. Apriamo questo file con il blocco note. All'interno di questo file creiamo una sezione PHP e chiamiamo la funzione PHP Info Salviamo il file e lo apriamo dal browser aggiungendo slash info.php nell'indirizzo Compare una pagina con varie informazioni sul server web e il supporto PHP. Possiamo quindi creare pagine web e PHP sia con strumenti Linux sia con strumenti Windows Dobbiamo comunque fare attenzione che Windows non gestisce in modo rigoroso maiuscole e minuscole nel nome dei file C'è un modulo Apache chiamato Spelling che aiuta a far funzionare lo stesso i siti anche se si fa riferimento a nomi di file diversi per maiuscole o per banali errori di scrittura ma se si usa questo trucco si rischia di avere spiacevoli sorprese quando si sposta il lavoro fatto in un server dove questo modulo non è attivabile Vediamo l'ultimo aspetto forse il più importante per usare il sottosistema Windows per Linux come piattaforma per lo sviluppo di siti web con Apache e PHP ovvero la gestione della rete La macchina virtuale dove viene fatto funzionare la distribuzione Linux Ubuntu ha una sua interfaccia di rete ma questa interfaccia di rete è connessa tramite driver software a una scheda di rete virtuale di Windows creata appositamente per comunicare con le installazioni WSL Possiamo vedere questa scheda da impostazioni, rete e internet impostazioni di rete avanzate e modifica opzioni scheda In questo computer ci sono la scheda di rete cablata e la scheda di rete wireless e quando si attiva il sottosistema Windows per Linux viene creata anche una scheda di rete virtuale di tipo Hyper-V In pratica le macchine virtuali Linux riescono ad accedere a internet passando per il sistema Windows principale che esegue una traduzione degli indirizzi IP permettendo a Linux di accedere ad internet ma da internet o dalla rete locale a cui è connesso Windows non si riesce ad accedere direttamente alle macchine Linux La scheda di rete virtuale collega Windows a Linux Il problema è che ad ogni riavvio di Windows viene attivata con degli indirizzi IP sempre diversi e non sono riuscito a trovare come si configura Sono comunque riuscito a installare gli strumenti di configurazione della virtualizzazione Hyper-V e tramite il pannello di controllo di Hyper-V si riesce a collegare in modalità Bridge la macchina virtuale Linux con la rete LAN esterna al computer Il problema è che anche in modalità Bridge rimane attivo il server DHCP interno e non ho trovato il modo di disattivarlo In modalità Bridge si riesce però a configurare nella rete esterna anche gli indirizzi IP del sottosistema Windows per Linux e a questo punto dagli altri apparati si riesce ad accedere ai servizi web appena installati in Linux Ma appunto quando ho riavviato la macchina sono cambiati radicalmente gli indirizzi IP gestiti da Hyper-V e l'interfaccia di rete fisica ha smesso di comunicare con la rete locale Purtroppo tutta o gran parte della documentazione su Hyper-V si rifà alla versione server di Windows mentre le mie prove sono fatte su una comune versione di Windows 10 Professional Inoltre molta documentazione su Windows si rifà alla versione in inglese e non sempre si riesce a trovare le etichette corrispondenti quando sono tradotte in italiano Il sottosistema Windows per Linux diventa quindi molto interessante per avviare applicazioni grafiche di Linux insieme ad applicazioni Windows o per avere un buon terminale con cui collegarsi a dei veri server Linux Mi tocca dire però che ad oggi un sistema new Linux funziona meglio su hardware dedicato o su un sistema di virtualizzazione come VirtualBox Vediamo che esperimenti riuscirò a fare per la prossima settimana Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere e se avete suggerimenti o proposte scriveteli nei commenti grazie per la visione Ciao a tutti